Giovedì 20 gennaio 2012, avanzato, cornicina, questa era la lezione di prima, si è capito un buon cazzo ma speriamo che vada bene, e adesso passiamo alla ste, bella toposnotta, che riprenderà i maestri Topolino, Salserino, Pilotino e la Giangi, vediamo la Giangi, eccola, in una figura di loro creazione che stupisce il mondo, vera menzogna, manzogna. Da un progetto, 6, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 6, 8, 1, 3, 6 6, 8, 1, 2, 3 , 10 96在هم, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 6, 7, 1, 7, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. E' un po' già aggiungendo l'ascinale. Ah no, mi sento IoAdelo ridire i miei rinforzi sono perché siamo la pena ultima se poi questo non la capo è uno. Non ho tutti i pali. 1, 2, 3, 5, 7, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 7, 1, 2, 3. Italia 1 non fa male non fa male